salve e ben arrivati a tutti i microfoni sono unidirezionali bene eh ringrazio ovviamente l'organizzazione per l'invito e ringrazio Stefano Mondini per essere qui ciao Stefano ciao siamo anche in diretta sui social ma soprattutto siamo anche di di presenza qui a Chiari fino alle diciannove trenta venti dove Stefano ovviamente firmerà le sue copie oggi vi parliamo di Ufficio Lettere perdute che è il nuovo romanzo di Stefano Mondini ovviamente domanda d'apertura chi è Stefano? Stefano Mondini è un doppiatore un attore un regista che da tanti anni sognava di scrivere romanzi e che sembra che in qualche modo ci stia riuscendo Ufficio Lettere perdute come nasce questo libro e di cosa parla? Come nasce non lo so eh le idee credo che le idee mi trovino siano loro a trovare me non io loro eh parla di un di un ufficio appunto l'ufficio Lettere perdute che parla in prima persona ci racconta in prima persona proprio quello che accade in questo in questo ufficio siamo nella provincia francese a Danger nella loira e gli occupanti di questo ufficio hanno un compito molto particolare quello di di recapitare lettere che altrimenti non non verrebbero recapitate perché c'è un indirizzo sbagliato perché c'è un nome sbagliato oppure c'è solo l'indirizzo non c'è il nome e via così e quindi il loro compito è proprio questo di recapitare queste queste lettere perdute. Hai parlato di un loro quindi ovviamente un plurale chi sono i protagonisti e grazie per avermi dato questa voce meravigliosa che non merito. Scusa mi ripeti? Chi sono i protagonisti? I protagonisti sono questi personaggi impiegati dell'ufficio postale che sono stati messi in castigo in questa in questa stanza sette che loro affettosamente chiamano ufficio Lettere perdute e che hanno appunto come unico compito questo eh questa cosa da fare. Eh naturalmente a un certo punto arriva un nuovo personaggio che entra in questo ufficio e che cambierà un po' gli equilibri. Ti passo il libro magari l'incipit così ascoltiamo la tua voce. Dimentico del cambio occhiale. L'età. Immagino di sì. Non avrei mai creduto che si sarebbe creata l'occasione per comunicare con voi. Pensavo che non ci fossero le motivazioni giuste per farlo e invece mi sbagliavo. Quello che vi dirò adesso sarà difficile da credere ma cercate di fare uno sforzo perché quello che sto per dirvi per quanto possa sembrare incredibile è la pura realtà dei fatti. Vorrei presentarmi con nome e cognome come fate voi esseri umani ma per me è impossibile. Mi presenterò allora col nome che mi avete assegnato voi. Ufficio lettere perdute anche se in realtà sulla porta c'è scritto stanza sette. Faccio parte di un edificio adibito a ufficio postale eretto circa settantacinque anni fa. Lo so che non ne siete al corrente ma noi manifatti prendiamo coscienza appena finite di crearci. Nei casi come il mio cioè di un edificio i singoli ambienti hanno una loro coscienza individuale anche se la parola individuale per noi ha poco senso. Sì avete capito bene siamo esseri senzienti ma con caratteristiche completamente diverse da voi umani. Non dobbiamo nutrirci, non dobbiamo accoppiarci, non cresciamo, non invecchiamo come voi, invecchiamo nel nostro modo. Non abbiamo bisogno di occhi per guardare, decidiamo noi dove e chi osservare. Non abbiamo bisogno di orecchie per ascoltare e non abbiamo bisogno di un apparato vocale per esprimerci. Possiamo comunicare tra noi manufatti quando vogliamo indipendentemente da dove ci troviamo a patto che ci sia terra emersa che ci tenga in contatto. Può sembrare strano ma è così. Se voglio avere notizie da un altro continente, intendo notizie interessanti per me, non devo fare altro che aspettare l'arrivo di qualche amico nave o aereo altrimenti basterebbe chiedere a qualsiasi apparecchio radiofonico. Se invece voglio assistere a un qualsiasi evento, anche se distante migliaia di chilometri, ci possa arrivare alla velocità del pensiero con la mia essenza. Non ho bisogno della mia parte materiale per muovermi. Intanto mi fermerei qui. Io ci stavo per dire continuo. Figurati, come siamo coordinati. Per quanto riguarda gli elementi naturali è un altro discorso. Scogliere, foreste, sassi, acqua e altro sono semplice materia inanimata. Non hanno coscienza per il semplice fatto che non sono stati creati appositamente dall'uomo. Non chiedetemi perché, sono migliaia di anni che ci interroghiamo su questa cosa senza venirne a capo. Accade e basta. Tra noi manufatti non ci sono relazioni sentimentali come per voi umani. Ciò nonostante nulla ci vieta di avere rapporti di confidenza fra di noi. Non siamo divisi in generi, maschile, femminile o altro. Non abbiamo gerarchie di nessun tipo. Insomma, esistiamo come entità senzienti fino alla nostra distruzione, anche parziale. Faccio un esempio, per farmi comprendere meglio. Se portate un'automobile da un demolitore la si smonta di portiere, sedili e via dicendo, il manufatto, ovvero l'automobile, perde la sua coscienza, poiché non si trasferisce ai singoli pezzi. Il manufatto umano prende vita, se così vogliamo chiamarla, solo quando è ultimato e quando viene smembrato, smette di esistere. Pensate ai puzzle, che prendono coscienza solo quando mettete l'ultimo pezzo. Quando sono nato, naturalmente la nostra nascita è completamente diversa dalla vostra, ero solamente una stanza vuota di un edificio che sarebbe stato adibito a ufficio postale ad Angers, nella Loira, al 75 di Avenue Montaigne, a due passi dal Jardin de Plante. Ci è voluto qualche mese prima di essere completamente occupato. All'inizio era una specie di sala ricreazione. Gli impiegati venivano da me per mangiare a pranzo o per fare una semplice pausa. c'erano dei tavoli, qualche sedia e nient'altro. Dopo una dozzina di anni mi utilizzarono come archivio. Preferivo la situazione precedente perché venivano tante persone, nascevano storie e more, si parlava di politica. Da un giorno all'altro fu riempito di scaffali e scartoffie. Arrivava sempre qualcuno, ma difficilmente per parlare. Durante la guerra sono stato utilizzato pochissimo, se non come deposito. Solo cinque anni fa hanno tolto tutti gli scaffali perché avevano creato un archivio centrale molto più grande di me, dove convogliavano tutto quello che riguardava gli uffici postali di zona. Il nuovo archivio appena costruito era molto contento di rendersi utile e io ero molto felice di poter essere utile ad altro. Grazie Stefano. Prima di tutto grazie perché sentirti leggere, comunque sentirti parlare, è sempre un'emozione. Ti faccio ovviamente una domanda. Come nasce l'idea di una stanza narrante? Perché ovviamente nella maggior parte dei casi chi narra è comunque un essere umano, animale. Ma volevo creare un piano narrativo diverso da quello umano, cioè un manufatto, cioè se questa stanza potesse raccontare quello che succede qua lo farebbe con una sua morale, un suo punto di vista che sarebbe sicuramente diverso dal nostro. E ho tentato appunto di fare questo, di cercare un punto di vista altro nei confronti di una storia. Nel romanzo abbiamo cinque protagonisti, ovviamente, diciamo, principali. Ma se io ti chiedessi tre aggettivi per ognuno di loro? Tre aggettivi per ognuno? Diventa un po' complicato. Dunque, Bobo sicuramente è il saggio dell'ufficio, è quello più taciturno. Poi c'è Annie che ha un'esplosione di femminilità e di carattere. Marie invece è quella un po' più taciturna e non fa altro che scrivere, sogna di diventare una grande strittrice. Carmen, che è la più carina, anche un po' timida, comunque le sogna di diventare un'attrice, un'attrice famosa. All'Anne invece era una promessa del rugby e che ha avuto, insomma, è incappato in una gravidanza inaspettata e quindi si è sposato e si è impiegato nell'ufficio postale. E poi più tardi arriverà dal Canada il misterioso Febbo. Quale messaggio vuoi trasmettere a tutti coloro che si ritroveranno tra le mani ufficio Lettre Perdute? Beh, sicuramente che la collaborazione, la cooperazione fra gli individui, è sicuramente sempre più forte dell'individualismo, soprattutto in un'epoca come questa dove l'individualismo è molto, molto forte. Invece qua, anche perché è ambientato tra l'autunno del 1967 e l'estate del 1968, un'epoca in cui si faceva dei gruppi della cooperazione, della collaborazione, si faceva la vera forza. sociale. Ma da piccolo, quando ti chiedevano, Stefano, cosa vuoi fare da grande? Tu rispondevi il doppiatore? No, l'astronauta. Ovviamente. No, il doppiaggio in qualche modo me l'ha infilato in testa mia madre quando io ero bambino e mi diceva, vedi quella è la voce di... perché all'epoca i doppiatori erano quasi tutti attori di teatro, di cinema e quindi erano tutti conosciuti e mi è nata questa curiosità fortissima e ho voluto intraprendere questa carriera che per fortuna da parecchi anni è la mia attività centrale. Sappiamo quindi che il doppiaggio è figlio del teatro, quindi domanda, com'è cambiato a questo punto il teatro con gli anni, visto che tu fai teatro poi a Roma? Il teatro in fondo non è cambiato, cambiano le tematiche, cambiano gli stili di scrittura, ma il teatro, questo di bello che è il contatto con il pubblico diretto, c'è la quarta parete che ci dà questa connessione con il pubblico e il nostro compito è quello di far fluire le emozioni verso il pubblico e quello non cambia. Qual è il personaggio preferito che hai doppiato tuo personale? Ma devo dire ultimamente chi mi sta dando grandi soddisfazioni è Mike Herman Trout di Breaking Bad e Better Call Saul, però devo dire che anche Richard Weber di Grecia Nato mi fa compagnia ormai da più di vent'anni perché lo stesso attore lo doppiava anche in X-Files, quindi diciamo si è creato poi un certo affetto a questo punto. E i Simpson che ruolo hanno nel tuo cuore? I Simpson sono il divertissement, la parte ludica di questo lavoro dove dai in qualche modo corpo alle tue follie perché è bello avere questa lucida follia di questi cartoni che ti danno modo di esprimere anche altri colori delle tue interpretazioni. Ci vuoi parlare di qualche tuo progetto futuro? Progetto futuro diciamo un paio di idee per altri due romanzi e dovrò trovare il tempo per farli e hai già un agente letterario? Prego? Hai già un agente letterario per i nuovi romanzi? Diciamo sì, avrei una persona in mente però non ti posso dire nulla altrimenti dovrei ucciderti. ti passo il libro. Ok. Voglio che mi leggi una pagina con una voce di qualche doppio d'ora o di qualche cosa che vorresti leggere tu. Gli occhiali. Eh? Gli occhiali. Ah ecco. Meno male sai l'età anche la memoria. Abba la voce di Mike è quello più... Ma tutto mi aspettavo tranne di guadagnarmi tra gli umani la triste nomea di prigione. Già perché sembrava almeno in un primo momento che mi sarebbe toccato in sorte di diventare le quattro mura che avrebbero accolto il dolore di alcuni esseri umani. Almeno questa era l'intenzione del direttore dell'ufficio. Adesso passiamo al dottor Weber. Gli impiegati che non avessero rispettato le disposizioni del direttore che non erano leggi ma le quali lui teneva avrebbero subito come condanna in base al crimine commesso da poche settimane fino al massimo del tempo che restava loro per arrivare alla pensione. La permanenza nell'ormai tristemente famoso ULP cioè io ufficio lettere perdute. Nome singolare apparentemente innocuo ma che può minare l'animo umano in profondità e che potrebbe portare addirittura alla pazzia. Ma tutto questo non è mai successo per fortuna. Arrivare alla follia intendo. Sono rimasto vuoto per soli cinque mesi. Ricordo benissimo il giorno in cui arrivò il mio primo ospite. Era una bellissima giornata di primavera. Quelle giornate delle quali a voi umani si risvegliano prepotentemente gli ormoni. Le donne si svestono più del dovuto e gli uomini si fanno avanti più del dovuto. I prati erano fioriti e la mandaia del direttore si era battuta sul povero impiegato condannato a passare parecchio tempo tra le vie e pareti. Si chiama Bobo o almeno è così che lo chiamano. Nessuno ricorda il suo vero nome tranne l'ufficio contabilità che gli deve assegnare lo stipendio. Bobo è alto corpulento un po' dinoccolato. Parla poco ma non perché non abbia niente da dire. Preferisce proferire solo l'essenziale. È scapolo perché non si crea le occasioni per incontrare la donna giusta. La sua vita si svolge fra casa e ufficio. Sul perché sia finito da me ci ritorneremo. Sei troppo bravo. Io te l'ho detto ieri a Torino, te lo ripeto qua a Chiari e te lo dirò domani a Bercellini quando saremo in Mondadori. Io ti vorrei in casa la mezz'ora prima che cerco di addormentarmi e ti vorrei accanto che mi leggi qualcosa. Una specie di jukebox. Sì va bene. Non lo so sarebbe divertente. Cioè pensiamoci a qualcosa a questo punto. Va bene ufficio lettere perdute. Completa la frase. Sì. Leggi il mio libro perché? Perché ti aiuterà a sognare. A me credo anche se sono abbastanza cresciuto non smetterò mai di essere un sognatore e vorrei che anche chi legge i miei libri si mettesse su questa lunghezza tonda. Cosa ti senti di dire a tutti coloro che ti dicono Stefano io vorrei fare il doppiatore? Studia. Studia recitazione, studia teatro e poi affacciati al mondo del doppiaggio perché il doppiatore è un attore che si è specializzato in qualcosa di specifico che è appunto il doppiaggio. Prima parlavamo di cinema di serie televisive e mi hai detto io di italiano vedo e guardo poco. Sì perché purtroppo non tutti gli attori di fiction italiana eccetera li trovo all'altezza e quindi a me dispiace perché io sono italiano vorrei che ci fosse più roba di qualità e ogni tanto per fortuna qualcosa c'è ci sono anche degli attori molto bravi. Purtroppo soprattutto nel lavoro seriale non è non è sempre così. Ieri parlavamo del fatto che in Italia ci sono solo mille persone come te che fanno questo mestiere. La domanda è come mai? È un percorso difficile? È un sogno inarrivoabile? No è una specializzazione molto molto specializzata scusami il gioco di parole nel senso che se siamo solamente mille e poi parlo solo di voci perché poi c'è tutto l'indotto assistenti al doppiaggio dialoghisti uffici amministrativi eccetera si arriva a qualche migliaio di persone però diciamo le voci solamente sono un migliaio di persone così specializzate che non so come dire molti ci accusano di essere una casta di non far entrare nessuno e io quando mi capita di fare un discorso del genere dico sempre per giocare in serie A devi essere un calciatore da serie A anche se sta in panchina se vuoi correre in formula 1 devi essere un pilota da formula 1 se non è così non lo puoi fare sembrerà brutto cattivo dire questa cosa qua ma il il limite il livello di qualità è molto alto e quindi se non si arriva a un livello minimo di qualità non si riesce a entrare ma non perché non vogliamo che le persone entrino tutti coloro che che hanno talento entrano non è vero che poi ci sono solo figli di doppia io per esempio sono un'espressione normale di una persona che non ha parenti zii amanti mogli mariti cose eccetera eppure faccio questo lavoro da tanti anni come pensi che sia percepita la cultura in Italia secondo me è percepita sempre un po come una cosa barbosa noiosa io invece la trovo esaltante soprattutto se qualcuno me la fa me la fa vivere in modo esaltante e qualcuno e qualche modo c'è per farlo parecchi modi devo dire la verità mi viene in mente benigni nello spiegare la divina commedia io l'ho trovato straordinario nel senso che è riuscito a far digerire a un pubblico a una grande platea un'opera che oggi come oggi è un po ostica come la divina commedia non è di semplice lettura perché va interpretata e non dimentichiamoci che il sessanta per cento della nostra lingua attuale viene da proprio da quel da quell'opera e parliamo del 1200 stavo pensando ad una cosa perché ovviamente tu sei di roma io ho vissuto a roma quattro anni e ho vissuto con un'attrice di teatro quindi praticamente andavamo sempre a teatro e stavo riflettendo sul fatto che proietti venuti a mancare comunque relativamente da poco come avete preso la notizia sul romo comunque nell'ambito beh già il fatto che il globe theater di roma sia stato immediatamente intitolato a gg proietti ti dà la misura insomma e e poi c'è quasi tutti gli attori sulla piazza di roma in un modo o nell'altro hanno avuto una connessione con gg proietti me compreso che ho avuto modo di recitare al globe abbiamo fatto due stagioni di sogno di una notte di mezza estate quindi ho avuto modo di conoscerlo lui ha avuto modo di vederci insomma un'entità un personaggio così importante ma non solo per la città di roma ma per tutta per tutta la nazione era era così famoso che non era più di roma non apparteneva più a roma apparteneva a tutto il mondo culturale conclusioni sono le due te l'ho chiesto ieri che conclusione vuoi fare della giornata dell'evento la giornata del nostro weekend insieme no tutto per me è la prima volta che faccio presentazioni soprattutto presentazione di un mio libro eccetera ed è tutto molto esaltante molto divertente poi siamo capitati in un periodo dell'anno dove il tempo è splendido in queste terre bellissime del nord italia dove io vengo sempre volentieri e qual la location qui è spettacolare in questo palazzo bellissimo su in questi giardini altrettanto belli insomma è una bellissima esperienza me la porterò me la porterò dietro noi saremo anche domani a vercelli e poi undici dodici luglio santo il ceso in provincia di genova esatto e poi da settembre ricominceremo con altre presentazioni in capitale con prima andiamo un po in vacanza digeriamo un po la cosa e poi io vorrei andare un po in vacanza però non che non credo che mi sarà concesso quest'anno va bene io ringrazio tutti voi per essere stati qui con noi ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito online come sempre in questi in questi tempi e e stefano sarà con me allo stand quindi praticamente qua fuori per un altro paio d'ore giusto 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 va bene grazie a tutti voi e a presto a tutti ciao grazie